Salute ragazzi e benvenuti in un altro episodio di Pokémon Omega Ruby Alfa Sapphire in collaborazione con Buketan.net Federic 95 Ita Oggi andiamo a prendere un'altra megapietra L'aerodactylite La troveremo all'interno delle cascate meteora Solamente dopo però aver ricevuto il Pokédex nazionale Quindi andiamo subito a vedere dove si trova Utilizziamo cascata in questo punto E saliamo Ora Entriamo qui dentro Alla grotta E Utilizziamo il surf di qua Anche se non mi ricordo bene la strada Però la troveremo Sotto il verso di un solo rock Sì La troveremo in quella zona lì sopra Oh porca miseria Però un attimino solo Che devo ricordarmi da che parte sono passato Sono andato dalla parte corretta Sì Allora Andiamo di qua E saliamo Ok A questo punto qui Dobbiamo però riuscire a cadere In quello giusto Perché l'illuminazione Del 3DS Non mi aiuta di certo Non la vedo bene E qui Vediamo Eccola qua infatti Sì Allora ho visto bene Eccola qui L'aerodactylite Quindi ragazzi Spero che questo episodio vi sia piaciuto Se è piaciuto mettete un altro Mi piace Un commento E anche un'iscrizione Ci vediamo nel prossimo episodio Dove troveremo le altre mega pietre Un saluto a te Ciao 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 Grazie a tutti.